La verità è che nessuno vuole fare il sindaco a Roma tranne Calenda e la Raggi, diciamo. Posso dire una cosa, adesso questa però è una roba che se ci pensiamo un secondo è delirante. Cioè stiamo parlando della capitale d'Italia e non c'è nessuno che vuole far sì. È una rogna. Ma sarà una rogna, ma non è che noi possiamo dire a prescindere che è una città che non si può governare, perché sennò ci buttiamo al fiume tutti quanti. Cioè non è possibile. Guardi, io ero sicuro che il PD tirasse fuori un candidato forte. Io l'ho fatto anche tanti nomi, Ricoletta, l'avrei sostenuto immediatamente. Tanto è che io ho sempre detto non mi candido. A un certo punto non usciva uno e io ho detto, oh ma che facciamo? Cioè non si candida nessuno? È una roba che se ci pensiamo dà proprio una chiave della crisi talmente profonda della città che nessuno ci si vuole avvicinare. Allora, Zingaretti non lo fa, vero, comunque? Così dice, Zingaretti. È da escludere Zingaretti.